Stiamo perdendo i 9 miliardi e 4 del Fondo Complementare per l'Alta Velocità e presentano invece una ipotesi di investimento di 13 miliardi e 4 che francamente non si capisce cosa viene sommato per questo. Sicuramente molte cose che già sono in ritardo, prima fra tutti i 300 milioni dell'elettrificazione della ferrovia ionica, di cui non ci scordiamo 40 sono stati dati già da questo governo alle ferrovie del nord e poi sempre gli stessi 3 miliardi dell'ionica che francamente noi come governi precedenti avevamo pensato di attuare in 3 anni e invece sono stati spalmati in 15 anni ma anche facendo così non tornano i conti e alla fine 8 miliardi del Fondo Complementare vengono tutti usati all'interno del lotto romagnano Praia che in Calabria non sarà utilizzato nemmeno per un euro. Quindi mi pare tutto un blef e nel frattempo abbiamo perso i soldi del Fondo Complementare. Ma non ci fidiamo perché gli annunci di RFI e del Ministro Salvini anche in Aula più volte in quest'ultimo anno e mezzo di Governo Nazionale sono sempre stati continui ma mai reali, semmai guardando le carte ci sono risorse che si sono spostate. È sparita l'alta velocità, il rapporto pendolare ci dice il dramma dei treni calabresi che non raccontiamo noi, che non racconta il PD. Lo sanno i cittadini che prendono quotidianamente e vivono i disagi delle infrastrutture ferroviarie in questa regione di collegamento. Ecco, c'è una presa in giro. La Calabria è un contenzioso vero, storico, con RFI e con ANAS. Piuttosto che fare una conferenza stampa a Roma per parlare ad altri si venisse in Calabria e si dicesse davvero cosa si vuole fare se si vuole riprendere il tema dell'alta velocità a prescindere dai tracciati non entriamo nella polemica inutile vogliamo sapere se la Calabria ha diritto ad avere l'alta velocità oppure no se la 106 deve rimanere ancora con i passaggi a livello è una morte continua, una strada della morte o ci sono degli impegni veri. Ecco, noi chiediamo questo al governo nazionale, a RFI e aggiungo anche ANAS e lo facciamo oggi con le referenti del partito diciamo dei dipartimenti tematici del Partito Democratico della Calabria con i consiglieri regionali, insomma il Partito Democratico nel suo complesso noi non contestiamo l'ormai consueta annuncite di occhiuto contestiamo il fatto che servono risposte ai calabresi perché andare avanti così è totalmente inaccettabile e incivile. La proposta è quella di dire subito sediamoci o torno a tavolo e decidiamo alta velocità, evitiamo di tornare sul blef del Ponte Sullo Stretto che sta drenando risorse che erano investite per il trasporto in Calabria per buttarle in una società che deve solamente pagare lo stipendio dei consiglieri di amministrazione della società Ponte Sullo Stretto e pagare la comunicazione. Questo è il punto vero. Il fatto è mettano le risorse e si decide assieme cosa fare perché è inaccettabile il grido di dolore dei sindaci che sono lasciati soli soprattutto nel versante della Ionica Calabrese. C'è un isolamento degli amministratori. Ecco noi chiediamo questo, chiediamo l'impegno delle risorse e chiediamo che RFI non si mascheri dietro gli amministratori di turno. Qualche giorno fa in quella conferenza stampa c'era l'attuale, non so se cambierà o se ce ne sarà un altro, però ciclicamente la Calabria viene usata dai ministri protempore e viene usata da questi amministratori che pensano di fare propaganda ma di reale mai nulla e il rapporto drammatico di avere i treni più vecchi d'Italia, probabilmente più vecchi d'Europa, è uno sfregio davvero ai calabresi, alle nuove generazioni e a chi pensa che parlando di sviluppo lo si possa fare solo sui social e poi di reale non fare nulla.